Sì, il primo tempo secondo me abbiamo giocato poco e quindi non riuscivamo a trovare gli spazi, non giocavamo molto lenti, non giravamo la palla veloce come facevamo sempre. Mentre il secondo tempo dopo i primi dieci minuti che stavamo andando in difficoltà abbiamo cominciato a cambiare ritmo la partita che si è vista. Quindi per chi l'ha poi cominciato ad attaccare, a creare azioni e soprattutto per arrivare il gol che ci ha dato la mano per proseguire la partita in quel modo.